Pescara si conferma una città sempre più a vocazione sportiva. Tanti gli appuntamenti sportivi nel capologo adriatico in questa lunga estate, tra questi il campionato italiano di skateboard al sessore. Assolutamente sì, la prima volta in Abruzzo, la prima volta a Pescara, il 31 luglio e il 1 agosto ospiterà il campionato italiano di skateboard. Per la precisione è una tappa nazionale del circuito skateboard, disciplina street, veramente importante per la città di Pescara che è sempre più aperta alle nuove discipline che oggi sono sempre più adatte ai ragazzi, alla nuova generazione e soprattutto ai teenager. Il campionato italiano di skate verrà disputato nel parco skate pubblico cittadino all'interno del porto turistico Marina di Pescara. È un posto incantevole che darà la possibilità a tutti i ragazzi di Pescara, ma soprattutto a tutti i ragazzi provenienti dal territorio nazionale, di usufruire di un impianto che l'amministrazione comunale ha creato da circa un anno e mezzo. Questa mattina anche la premiazione di un atleta che pratica gym box, assessore? Abbiamo avuto l'onore di premiare Giulia Di Clemente, una ragazza di solo 23 anni che nonostante il momento storico così difficile è riuscita ad ottenere risultati estrepintosi, campionessa italiana di gym box. Giulia Di Clemente è premiata oggi a Palazzo di Città Pescara come atleta di gym box, un bel riconoscimento Giulia? Sì, anche se in questo periodo particolare devo dire che ottenere questo risultato è stato molto soddisfacente. Una premiazione qui in comune per te che sei giovanissima, come mai hai scelto di praticare questa disciplina? Perché mi ha sempre appassionato soprattutto la mentalità di questo sport che appunto è costanza, determinazione e soprattutto anche senza del sacrificio e quindi ho scelto per questa disciplina. Gym box che si differenzia dalla box classica perché vogliamo spiegare quali sono le differenze? Diciamo che viene valutata più la tecnica, la velocità piuttosto che un KO e quindi diciamo si differenzia per questo. Nella nostra città la partecipazione è sempre massiccia perché appunto si viene volentieri al centro dell'Italia, si raggiunge facilmente e poi è ospitale. È una città che ha tutte le caratteristiche per organizzare manifestazioni di altissimo livello. Questa mattina abbiamo premiato appunto questa ragazza, meritevole di ogni attenzione. Il pugilato femminile è avanti attualmente. Se pensiamo che alle Olimpiadi ci sono cinque atletesse pugili e nessun maschio, questo è significativo del livello raggiunto dal pugilato femminile. Quindi un caloroso in bocca al lupo a lei che possa ottenere i migliori risultati e un caloroso in bocca al lupo all'organizzazione di questo importante evento che ci sarà a Pescara il 31 luglio e il 1 agosto che è una tappa di qualificazione per i campionati italiani, ma già mi dicono che c'è un numero esorbitante di iscritti, più di 100. grazie a tutti.